ciao a tutti stiamo nel negozio di michael's che sarebbe il negozio tutto di arts and crafts cose che vuoi creare disegnare pitturare dipingere perché noi dobbiamo venire qua per questo perché io ho archery adesso perché la mia scuola fanno solo da quarta alla quinta e allora siamo venuti qui e vi facciamo vedere stanno per trasferire da questo negozio a un altro allora ci hanno dei sconti abbastanza buoni allora 50% su certe cose allora vi facciamo vedere tutte le cose qui dentro questi sono alcune delle cose che hanno questi quasi stirano per creare delle cose mi facevo quando ero piccola questi tanto per farvi vedere un po di stoffa magliette da colorare varie cose comunque e qua le bambole tipo quelle famose di american girl dolls ovviamente costano di meno e c'hanno i vestiti ma non sono scontati a 50% di sconto per fare crime scene e guarda qua labs per fare varie cose diverse cose laboratorio tipo laboratorio un vulcano guarda qua un cristallo varie cose scientifiche play doh compri uno prendi uno a 50% varie libri qui qua dentro non vedo tanti ah compri uno prendi uno a 50% questi sono varie cose della creola ovviamente costano un po di meno da walmart oh questi sono miei insegnanti lo ha markers che hanno il profumo cose pitture di qua hanno alcune decorazioni per via autunno e poi giri qua e decorazioni per natale e poi qui si usa tanto fare scrapbooking io lo facevo pure ma non ho avuto un sacco di tempo per farlo allora mi manca da parecchi anni però vi facciamo vedere pure tutti i scrapbooking cose ti piace pitturare o dipingere fare diversi decoupage che ne so io questo è il posto dove venire a comprare tutto che ti serve per fare il do it yourself fare da su, da sé tantissimi tantissimi questi qua tutti hanno profumi anche la corona da cancellare 50% di sconto li vogliono liberare guardate se volete fare una piccola casetta c'hai tutto per fare la casetta questi sono ovviamente i spray colorati non so perché alcuni ce li hanno dentro chiusi boh boh che ne so boh tantissime lettere da poter dipingere fare quello che vuoi tu di questo lato tutta la roba legna come origami la sezione pure delle tutte le frames come si chiamano in italiano non lo so per questi anche quando per cento continuano i frames allora abbiamo chiesto solo per conferma tipo questo qua era 14 8 8 99 da 8 99 metà prezzo non è che vuole il microfono in questi una fila di tutta la roba scontata però ce l'hanno i mic qua sopra però è di più di uno questi sono pure molto popolari per usare per decorare mio nonno lui aveva uno di quelli e lui doveva prendere un po' di gius per mettere a mio cugino e c'era un buco nel coso veramente mamma mia ora vai danica e lui si è bagnato un po' guarda tu c'hai questo qualcuno te l'aveva regalato per tuo compleanno un'altra fila mamma mia prossima fila tutti ribbon ricordi noi facciamo a bo's no già ce l'abbiamo a casa tanto ribbon per chi vuole fare i fiocchi e c'è già cose di natale casette tutto questo è carino è sicuro costa parecchio tutto per sposa anche gli inviti perché si possono fare gli inviti invece di spendere tanto per fare gli inviti tutto che ti serve per fare un matrimonio oltre al vestito ovviamente ah questo qua invece è per per la mamma che deve essere allora tipo per noi facciamo qui in america i baby showers questo la metti intorno alla pancia per vedere quanto quanto è grande non so perché hanno messo questo in mezzo a tutto la questa roba per matrimonio boh però vedi qua ci sono piccoli cose per i bambini candele finte è vero ovviamente preparare per natale i mean halloween candy apples e i scheletri come le matze ma guarda qua e la scarpa di strega ma guarda qua questo è molto carino questo è molto carino per misurare i misurini americani questi sono tornati un occhio c'hai questo è bello per fare il pie e qua tutti i ribbons per natale già stanno preparando cose per halloween qui dentro e poi da questo lato di natale per fare la piccola casetta la scena qua invece le cose per le fatine tutto per fare tutto per le fatine infatti vorrei fare uno simile a questo oh mamma mia stai facendo la spesa per halloween Danica? il mio gattino ha un giro mamma mia tutti questi sono 60% di sconto questi sono gomme da cancellare sono troppo carini questa mi piace assai da lecca lecca gomma da cancellare grandissimo Danicruz vediamo che cosa mi ha fatto non so comunque ho preso questi così ogni giorno da settimana se c'è qualche vento che sta succedendo Danica aveva messo questo addosso a me guarda questi halloween costumes per i gatti guarda là giù il view still i capelli per i gatti e altri halloween costumes tutti 40% di sconto oh mamma mia squishy posso mio orecchio? oh questi sono varie crafts da fare ho anche 40% di sconto per halloween pure in natale cose hanno messo delle cose di natale guarda qui i candy eye bones e le ossa il coltello che va sulla torta un chocolate haunted house con la cioccolata e poi quello là è gingerbread Jack-o-lanterns là sotto oh guarda qua le ossa fai il pipistrelle pure o lo scheletro queste sono varie attività per Thanksgiving per preparare per novembre fino a novembre abbiamo il giorno di ringraziamento quello sarebbe la Befana? no la Befana? non è? sì guarda questi piccol'attività adesso stiamo nella zona super scontato già sono scontate le cose oltre allo sconto normale tutte 50% su il quel prezzo tipo Life is Girl mi piace assai infatti me la prendo è scontata a 12 dollari mi verrà 6 dollari molto carino non hanno la D però vero? vero qua? andrebbe sulla tua testa sulla tua testa oh guarda Hello Kitty baking pan verrà 2 dollari questa cosa penso quello per mettere sulla torta stiamo Michael's oh mamma mia guarda qua come se sta in la vasca prendi il toad stru ci stanno un sacco di sconti perché stanno trasferendo il negozio abbiamo la scopa della strega stanno un sacco di sconti mirror mirror on the wall e ovviamente le palline anche perché qui in america ci sono gli alberi di natale tutto l'anno e cambiano le palline fanno a tema del del proprio holiday thanksgiving ladle molto carino ciao 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 ciao